Quindi facciamo insieme. Fate insieme. Un attimo che mi posiziono. Allora, bellissimo. In due non ce la facciamo, coraggio. Ecco. Sabato 10 marzo in Sala Duomo a Carpi, alla presenza del Vescovo Monsignor Francesco Cavina, è stata inaugurata la mostra di Trento Longaretti, maestro di inculturazione della fede. L'esposizione proposta dall'Azione Cattolica con il coinvolgimento della Diocesi e il patrocinio del Comune di Carpi rientra nell'ambito del tema Comunicazione e Cultura che l'Azione Cattolica sta portando avanti nei gruppi di Catechesi Organica Adulti. In linea con il percorso annuale, la Catechesi Organica Adulti intende accogliere e portare all'attenzione di tutti varie esperienze, tra cui l'incontro con figure come Longaretti, testimone di una fede che ha saputo incarnarsi nella quotidianità e le cui opere sono lievito evangelico nella nostra cultura. Longaretti ha orientato la sua opera su alcune tematiche fondamentali che fanno riflettere. Le sue figure protese, in movimento, le famiglie, i viandanti, i poveri sono gente in fuga ma non disperata perché ha la ricerca di qualcosa di meglio sotto l'occhio di Dio. È un mondo di fede che si offre a tutti, credenti e non, perché al suo centro ci sono l'uomo e la grande sfaccettatura dell'umanità, dell'uomo viator e dell'uomo donens, ben espressa dalla ricchezza dei colori. La mostra rimarrà aperta fino a domenica 1 aprile con i seguenti orari, venerdì e domenica dalle 16 alle 19, sabato dalle 9 e mezza alla mezza e dalle 16 alle 19.